Commercianti, proloco di saltare, comune di Colli al Metauro, uniti per riportare sorriso sul volto delle persone dopo due anni difficili di pandemia. Con un programma ricco di iniziative, tra spettacoli, premi e intrattenimento, torna a Calcinelli il festival di primavera. L'evento, ideato 20 anni fa, si svolgerà domenica prossima dalle 10 alle ore 21. Un'idea di rinascita, quello che vogliamo dare è un momento spensierato, un momento per poter uscire nuovamente, vista anche la fine dello stato d'emergenza. Un momento per tutti i cittadini, per le attività commerciali, per potersi promuovere, per le associazioni, per mostrare le loro attività. Da qui è nata la volontà di voler contattare gli artisti di Zelig, comici come loro che sapranno sicuramente far ridere. Infatti avremo Max Cavallari, con il suo spettacolo Cari Cortili, avremo Giancarlo Calabrugovic, il Calabretta, abbiamo Alessandro Politi, che è il grande mago, il grande mago 3, tutti che sono comparsi poi a Zelig dell'ultima edizione. Ma oltre a questi personaggi abbiamo anche altri artisti, tra cui Schizio JF, che si esibiranno con degli spettacoli itineranti e che vengono da Circus Off e sono, diciamo, degli artisti poliedrici, che intraterranno ovviamente tutta l'area della manifestazione. Abbiamo il grande Magic Performer Enrico Battaglia, sempre facente parte del gruppo Zelig e Circus Off. Dopodiché, ovviamente, la giornata è caratterizzata non solo da questi personaggi, ma anche da altri artisti. Basta di pensare che al mattino abbiamo il pianista sul Maggiolone. Si tratta di un Maggiolone che è completamente autonomo, addirittura dotato di un fotofoltaico, trasformato in un pianoforte e che allietterà la mattinata lungo la Via Flaminia. Abbiamo il Van & DJ, che si chiama Van perché è un pulmino Volkswagen d'epoca, completamente restaurato, adibito a console su cui si esibiranno diversi DJ. A fianco poi verrà allestito uno spazio a tema dove si potranno scattare fotografie in modo gratuito. Sarà presente anche un gruppo folcloristico composto da percussionisti e ballerine, mentre per le 14.30 è prevista una conferenza sul mondo dei fiori. Quest'anno abbiamo deciso di sviluppare anche l'idea di creare un concorso, quindi sia il concorso della vitrine dei commercianti e anche il concorso del balcone più bello dei cittadini. Un modo per coinvolgere tutti in questa bellissima festa. Trovate il programma completo nella locandina scannerizzando il codice QR, questa è una scelta sia ecologica che innovativa. Il festival sarà diviso in quattro zone principali, abbiamo Via Marconi, il piazzale della delegazione comunale, Via Flaminia e la piazza centrale. Quello che proponiamo quest'anno per questo festival è cultura, intrattenimento, musica e spettacolo. Non mancate!